Tragico incidente stradale mortale attorno alle 19 sulla vecchia statale 125 alla periferia di Villa Puzzu. Una donna di 30 anni di Muravera, Lisa Lussu, che percorreva la strada su un monopattino, è deceduta dopo essere stata investita da un SUV. Scattato l'allarme sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma per la donna non c'è stato niente da fare, è deceduta sul colpo. I carabinieri hanno eseguito i rilievi di legge e stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.